E' importante e bello recarsi in Chiesa ogni domenica per partecipare alla Messa, che rappresenta un momento non solo di comunione nella preghiera, ma nel quale si riceve anche il Corpo di Cristo. Così oggi Papa Francesco all'udienza generale, davanti a oltre 13.000 persone giunte in Piazza San Pietro, nonostante il maltempo, il Pontefice ha sviluppato la Catechesi sul tema dell'Eucarestia. Quando ci si accosta a questo sacramento, ha detto, significa che ci si conforma in modo unico a Cristo, pregustando già il banchetto celeste dove con tutti i santi avremo la gloria di contemplare Dio faccia a faccia. L'Eucaristia costituisce il vertice dell'azione di salvezza di Dio. Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore. così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli.